Parliamo di questa associazione e tra le altre cose a Partenico molto presto sarà inaugurata anche questa Liberiato, proprio per dire liberiamo la Valle dell'Oiato dal pizzo e dal racket. Sì, l'associazione anti-racket Liberiato è nata lo scorso anno, nel mese di gennaio 2011. All'inizio contava otto adesioni, oggi siamo una trentina e altre imprese comunque si stanno iscrivendo alla nostra associazione. Fa parte della consulta anti-racket a cui hanno aderito alcune associazioni, sindacati, le chiese ed altre associazioni. Comunque ben presto verrà inaugurata e ci trasferiremo nel bene confiscato a Vitale di Viogo Foscolo che ci è stato messo a disposizione dal signor sindaco del comune di Partenico. A breve ci sarà l'inaugurazione, il comune di Borgetto ha contribuito anche con un contributo di 5 mila euro per l'acquisto dell'arredamento. Speriamo di andare avanti sempre più uniti e sempre più forti. Alla fine si può fare? Certo che si può fare, già si sta facendo. Era impensabile che nascesse a Borgetto un'associazione anti-racket, intanto è nata Borgetto e Partinico e quindi andremo avanti per la nostra strada. Il nostro motto è sempre quello di dire no alla mafia, no al pizzo e ad ogni forma di illegalità. Lo scopo dell'associazione è proprio quello di convincere gli imprenditori ad andare avanti, a non avere paura, a denunciare alle istituzioni con il nostro sostegno. Grazie anche a te Leiato, io non posso dimenticare il fatto che quando ci siamo riuniti gli otto imprenditori davanti alla questura lei era presente, il dottor Pino Maniaci, quindi io la ringrazio anche per il sostegno e l'incoraggiamento che ci ha dato in questo anno. Grazie.